Sono arrivati lì i cosiddetti muti, diciamo, e io avevo 17 anni allora. Se ne avevo 18 probabilmente mi portavano a Germania. Sono stato un quarto d'ora con la rivoltella puntata verso di me e mi chiamò, non chiamò me, le carte e tutto. E gli hanno in paese, vedendo le carte gli anni li sapevano, ma era giovane quello lì. E c'era il mio padrone vicino a me e è andata bene perché mi ha lasciato libero. Io ero andato in bicicletta, siccome c'era il posto di blocco, sono andato in bicicletta e avevo un bambino del padrone. Sulla bicicletta, così. E dopo sono girato di nuovo nella casilla e lì mi ha visto che ero girato lì e sono venuto lì a vedere perché sono fuggito. No, io non sono fuggito. Avevo questo bambino sulla bicicletta e lo portavo a passeggio. E sono ritornato qui. Insomma, sono tutte quelle cose che certo non fa tanto piacere. Ok.